Iscrivetevi al canale, dov'è caso? Eccolo, allora, io dovrei aver fatto i conti bene e avere tutto Però non ve lo prometto Sono molto onesto, io in testa mia ho fatto i conti bene e dovrei avere tutto, però non prometto niente 60 I am stupid, I am stupid Li tengo, eh, perché li tengo, però me l'ho dimenticato di convertirli Dov'è il mio pupo? Eccolo, di questi quanti me ne servono, ma non voglio fare figure Ma vediamo, porco giù, mi mancavano quelli viola No, 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 tu stai zitto, cioè, con l'educazione sempre 70 80 E mo' lo so, ma di solito ho strumenti in abbondanza, oggi mi mancavano Qua quale gli dovevo dare? La, l'ufile ferro Grappa sarda, aspetta Dottoressa, bella Poi, manufatti Parapapà E gli mettiamo questo No, questo che c'è nel G-Richard pure No, ok Costellazioni, eh, eh, niente Allora Non ha il 4 piece così Eh, lo so, non ce l'abbiamo il 4 piece No, l'attacco normale non lo tocchiamo Ma i libri non li avevo fatti Ma io i libri li avevo fatti Ah Ho fatto male i calcoli I calcoli li ho fatti Allora, posso spiegare Può darsi che ce li avevo già Eh, allora La domanda è qua, a questo punto No, allora C'è stato un misunderstanding, chiaramente Io ho, ho farmato Ma perché non ho usato Caching Center? Allora Cosa ti Cioè Chi, chi ti ha detto che non l'ho usato? Allora, l'ho, l'ho, l'ho fatto Però, però, al posto di quelli argentati Ho fatto quelli dorati, perché Vabbè, se Nicola ha scritto Sembra che sia incartato Ma adesso ne esco Ah, io le cose fatte bene Non le posso fare Chiaramente Top content Cioè, allora Se volete vedere i top player di Genshin YouTube È pieno Io Io sono per l'intrattenimento Cristo Manco i calcoli Vabbè, del weekly non ne avevo fatti i calcoli Perché ho detto Prima lo prendo Perché ero senza team solvent Mo Mo vediamo un attimo 4 Faccio 4 Sì, lo so, però Per i conti che non mi trovo 4 bastano Vabbè, ciungo No, penso che basti Oh Ok, quasi Ovvio che siamo qui per il meme Oh, vedete Non è che ci voleva tanto All'ultima abbiamo portato al 10 C'è la skill che è deficita un po' Prima o poi serviranno per la skill Solo che io non mi so Il problema, sai qual è? Non è ta? Oggi non ci sono Martedì Sì che ci sono Tanto casino Un attimo È tornato il player Ti ricordi cosa facevamo in questo domain? Oh no, mi ricordo È più facile a farsi che a dirsi Eh, però ciò caso, eh? Ma come zompetta Una gazzella Eh, non avevo la ulticarica prima Dov'è il legno? Allora mi guardano perché sanno come sono io Sì, la gente che è in content 8 9 Eh, vabbè, dai Al 9 Perché Ok, no Lo tengo A posto È vero, è vero A posto Dai, ci sta per l'elemental master Quello che deve fare lo fa Sì, no, per oggi abbiamo finito È tutto Ciao amici, è dopo Ciao amici